buongiorno a tutti e chi ha l'ascolto di questo video buongiorno però che vada tutto bene per voi allora ho visto poc'anzi è la conferenza stampa di massimiliano allegri e un quadrato pre juventus paris saint germain ha fatto discorso sui giovani che fa trito un po con quello che è secondo il mio punto di vista e il vostro immagino perché non siamo tutti deficienti qua davanti abbiamo tutti un nostro modo di pensare che spesso ahimè va un pochino al di sopra di questo allenatore che abbiamo noi che vuoi per la paura di per i luoghi comuni che nella sua testa galleggiano fa degli errori di valutazione o di gestione più che valutazione perché la valutazione ballerina la gestione è un po più stabile come cosa e se tu parti con un concetto sbagliato prendi una direzione sbagliata che porti avanti poi con i tuoi discorsi ecco lì poi i vari risultati negativi allora vengo al punto perché sennò qua diventa una cosa pesante fagioli lui ha detto che miretti ha sbagliato vero è vero è vero miretti intanto a differenza di fagioli che fa girare il pallone lui ci fa girare le gambe perché deve farne dietro le tue diagonali vero allegri per fare i tuoi avanti e indietro ancora dietro l'uomo vero allegri deve dare su coprire di lì coprire di là far su far giù destra sinistra sopra sotto ma che cazzo stai dicendo quando arrivi là davanti puoi avere anche un po più di stanchezza normale tu fai muovere pallone a centrocampo poi bastano dieci metri di smarcamento porca troia non quel correre avanti e dietro tu la palla se la rubi avanti corri meno sta lì lì il ghippo infatti abbiamo rubato palla avanti gli ultimi minuti perché il lecce ha fatto una partita di attenta dietro chiudeva tutti gli spazi ed era difficoltoso con i nostri passaggi lenti e soprattutto buttare tutta la responsabilità su un costice che non è all'altezza di far tutti i cross giusti avete visto che tanti di grossa precipitosamente senza saltare l'uomo ahimè healing si è fatto male perché questo qua loro salta l'uomo lo disintegra fa due passi quello lì rimane tontito papala in mezzo sull'uomo non sbaglio passaggio ragazzi non so io ho visto le partite allegri tu dici che la maglia pesa dove gioca nell'under 23 non fa quelle cose lì è un po più normale diciamo ma quando veste la maglia da titolare questo qua spacca tutto il contrario di quello che dici del piero lippi l'ha messo dentro quando ha fatto quel gol all'esordio non l'ha più tolto ha messo fuori baggio testa di cazzo testa di cazzo ma rabbio perché fagioli l'ha fatto il gol e non è un colpo di culo testa di cazzo quello lì è un tocco di bravura ha avuto la sfiga che ha preso il palo quel tiro li poteva anche non entrare quella sfiga perché poteva entrare diretto col gol lì l'altre sulle che prima o poi la butta dentro colpa di san germain chissà che non sia lui a buttarla dentro mogli cante 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 squin cante mel が